Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Voglio solo chiedere una cosa sul generale Vannacci. Vale la pena? Sì, per due motivi. Uno perché oggi la Lega in serata, attraverso il parlamentare Crippa, che è vice segretario federale della Lega, ha detto che Vannacci se vuole è il benvenuto nella Lega anche per una candidatura. Per il momento però non c'è nessuna trattativa in corso. E poi perché oggi ha dato un'intervista a Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, molto esaustiva poi anche da sentire sul sito, e ha detto, tra le altre cose, una buona fetta della società si ritrova in quello che scrivo. E non ha ragione. Se si presenta prenderà molti voti. È pacifico che è così. Vannacci interpreta... Ma non è preoccupante o dobbiamo abituarci che sarà sempre di più. Interpreta una parte della pancia del paese. Quella, avrebbe detto Prodi, meno riflessiva. Ecco. E la interpreta bene, perché lui è come loro. Dunque si sentono simili, si piacciono, si votano. Se Vannacci si presenta, come è molto probabile, avrà molti voti, sarà eletto e ci rappresenterà in Europa. Poi lei dice radical chic. Giuseppe Rughetti anche.